pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati uno dei rischi che corriamo è quello di abituarci alle cose peggio ancora alle persone e dare tutto per scontato dare per scontata la presenza di una persona i suoi gesti d'affetto questo rischio può toccare anche il nostro rapporto con il signore arrivando a dare per scontato il miracolo della sua presenza reale tra noi nell'eucaristia questo rischio può toccare tutti sacerdoti religiosi religiose laici perciò la solennità del corpus domini diventa un'occasione meravigliosa per ridestare il cuore allo stupore all'amore per gesù che pur di stare con noi e in noi continua a farsi piccolo nascondendosi in poco pane perciò per dirla con san francesco d'assisi o ammirabile altezza e stupenda degnazione o umiltà sublime o sublimità umile che il signore dell'universo dio e figlio di dio si umili a tal punto da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane guardate fratelli e sorelle l'umiltà di dio e aprite davanti a lui i vostri cuori il vangelo è quello della moltiplicazione dei pani che ci offre coordinate preziose per capire un po meglio il senso dell'eucaristia dopo una giornata trascorsa ad evangelizzare e a prendersi cura dei bisognosi si fa sera e i dodici invitano gesù a congedare la folla perché possa trovare alloggio e cibo ragionevole certo ma può nascondere una sottile tentazione falli andare così che si arrangino loro rimandali prima che abbiano fame prima che il loro bisogno diventi un problema per noi sono tentazioni e resistenze con le quali anche noi facciamo i conti quante volte ci sarà passata la tentazione di fare un passo indietro prima che il bisogno dell'altro possa interpellarmi qualche esempio semplice vedo in lontananza un povero per strada e mi viene voglia di cambiare marciapiede così che non debba quantomeno dirgli di no non telefono ad una persona che magari vive un momento difficile per paura di non sapere cosa dire oppure inizio a parlare con una persona che inizia ad aprirmi il cuore a manifestarmi un bisogno e cerco di tagliar il primo possibile prima che possa chiedermi qualcosa di più insomma gli esempi si potrebbero moltiplicare i motivi per cui facciamo così possono essere tanti dall'egoismo latente alla percezione della propria inadeguatezza alla paura di sbagliare fatto sta ed è che gesù risponde ai dodici dicendo voi stessi date loro da mangiare gesù chiaramente sta alzando l'asticella della carità spinge a fare un passo in avanti e coinvolge i discepoli nel dono di sé li sta e ci sta spingendo a non essere indifferenti a metterci del nostro a fare il bene possibile potremmo dire che gesù coinvolge nella sua compassione che il punto di partenza della moltiplicazione dei pani segno dell'eucaristia ma in fondo di tutta la sua vita per i discepoli le parole di gesù sono un fulmine a ciel sereno sembrano andare contro il buonsenso cosa possiamo dare a 5.000 uomini senza contare donne e bambini non abbiamo che 5 pani 2 pesci cioè abbiamo poco basta sì e no per noi in fondo questa è la nostra realtà anche noi siamo poco abbiamo poco quante volte ci siamo sentiti e ci sentiamo impotenti di fronte alla complessità della realtà cosa sono io davanti ai bisogni dell'umanità cos'è il mio debole amore di fronte all'avventura meravigliosa dell'amare per sempre come posso io rispondere ad una chiamata del signore quando non sono capace non sono bravo a parlare non sono all'altezza cosa posso io di fronte alla malattia mortale di una persona cara l'inganno è pensare che siccome non posso risolvere tutto allora non posso fare nulla non è così il miracolo di gesù parte da una cosa semplice che quel poco viene messo a disposizione ancor più quel poco viene messo nelle sue mani gesù prende quei pani rende grazie al padre spezza moltiplica dona i discepoli accolgono quel pane benedetto lo distribuiscono alla folla nel frattempo suddivisa in gruppi di 50 circa figura della chiesa suddivisa in comunità locali e quel pane basta e sovrabbonda per tutti l'allusione ai gesti dell'ultima cena la distribuzione dell'eucaristia è chiara ma cosa è particolarmente interessante che il signore compie questo miracolo d'amore non dal nulla ma accogliendo il poco che gli vi è messo a disposizione in fondo da dove è partita l'incarnazione del figlio di dio darsi di una piccola creatura la vergine maria che si è messa a disposizione dio attraverso di lei ha preso il nostro poco la nostra natura umana e la unità a sé in cristo in un modo mirabile meraviglioso e che cosa è l'eucaristia poco pane e poco vino che messi a disposizione in forza della potenza dello spirito della parola di dio diventano presenza reale di gesù e che cosa è la santa messa un rito semplice apparentemente da poco che invece unisce cielo e terra dove si rende presente il signore che continua a donarsi per noi e che cosa accade a noi quando accogliamo l'eucaristia che nella nostra pochezza nella nostra fragilità si rende presente il molto lo straordinario di dio che ci comunica la sua vita eterna il suo amore divinizzandoci come dicevano i padri della chiesa non siamo noi che assimiliamo l'eucaristia ma è l'eucaristia che ci assimila a sé trasformandoci man mano in cristo unendoci a lui e tra noi cari fratelli e sorelle qui abbiamo qualcosa di prezioso per la nostra vita il nostro poco messo nelle mani di cristo può diventare molto il nostro poco accogliendo cristo può diventare molto accogliendo in me la presenza reale di gesù nell'eucaristia il mio povero cuore man mano a seconda anche della mia fede viene dilatato dalla potenza d'amore del signore e vengo reso capace di donarmi di più di amare di più un po come gli apostoli da che volevano rimandare la folla a che mettendo il loro poco nelle mani di gesù e accogliendo il suo dono diventano suoi strumenti dando loro stessi da mangiare frase che a questo punto acquisisce sicuramente un doppio bellissimo significato date voi da mangiare e datevi voi come cibo per gli altri miei cari quante persone si sentono inadeguate magari tu stesso inadeguate a rispondere a una chiamata incapaci di portare avanti la propria missione impotenti di fronte a una situazione dolorosa propria o di una persona cara percependosi incapaci di continuare ad amare magari il coniuge che ha un po preso le distanze da dove partire dall'accettare la realtà io da solo non riesco sono poco ho poche forze ma con gesù tutto è possibile dunque ciò che conta è mettere me stesso nelle sue mani e accogliere lui non conta essere all'altezza di tutto forte in tutto conta essere alleati con il forte uniti a cristo si parte dall'accogliere lui dall'unirci a lui dal nutrirci di lui mettendo poi in gioco secondo la sua parola quel poco che possiamo quella preghiera possibile quegli atti d'amore possibili quelle buone azioni possibili perché in lui diventino alimento per altri in cristo nulla è sprecato tutto è valorizzato amplificato dilatato pensate ad una persona che soffre quanti si chiedono ma io che servo che posso fare per la salvezza degli altri magari infiorato da un letto bloccato dentro casa dimenticato da tutti tu puoi fare qualcosa di bellissimo puoi unire le tue sofferenze a quelle di cristo che facendo massa con le sue giovano alla salvezza di tutti e ciò che d'altronde viviamo ad ogni celebrazione eucaristica nell'offerta del pane del vino che anticamente venivano portate dai fedeli è simboleggiata l'offerta di noi stessi delle nostre gioie fatiche speranze che unite a quelle di cristo acquistano un valore nuovo un senso nuovo e allora puoi scoprire che quella sofferenza ha senso ha molto senso ha un valore immenso in lui diventa una chiamata ad amare di più e scopri che anche quel poco offerto per amore infonde pace edifica tocca i cuori di coloro che vengono a contatto con te e quanti un giorno in cielo diranno grazie proprio a te ho davanti agli occhi tante persone belle anche della nostra comunità laicale afflitte da varie malattie che soffrono e affrontano prove grandi ma con un sereno abbandono in cristo con il sorriso sulle labbra con una parola di incoraggiamento per tutti che bello vedere come il nostro poco unito a cristo può diventare davvero molto coraggio dunque caro fratello cara sorella non credere alla tentazione di non farcela di non essere abbastanza che la tua vita non serva non importa che tu sappia fare poco o molto che tu sappia poco o molto che tu abbia poco o molto ciò che conta è che lo consegni nelle mani di gesù accogliendo lui nutrendoti di lui decidendoti ad amare e allora sperimenterai come il tuo poco diventerà molto come la tua vita magari un po scassata e ferita potrà diventare sostegno e conforto per la vita di tanti celebriamo in questa domenica il meraviglioso mistero dell'eucaristia dove il signore risorto continua a rendersi presente tra noi e a donarsi a noi per unirci a sé e tra noi perché lasciandoci amare e sfamare da lui possiamo diventare a nostra volta per così dire piccole eucaristie viventi che fanno della loro vita un meraviglioso dono d'amore che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti grazie mille